Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad essere in questo nuovo video di Nea Replicant Vedi, cominciamo a prima di fare la cosa primaria A prendere tutte le queste condare che ci sono qua, che ci sono tante Dove sono costruiti i vecchi documenti? Ok, proviamo ad andare a vedere un attico, adesso prendo anche le altre Giusto per vedere Siamo qua, così dai ci togliamo un attimo il peso dal intestino Non era proprio così che volevo dire, perché siamo riusciti a male Va bene, non importa, se abbiamo un attimo va che è meglio E vediamo un po' se la libreria, la libreria La libreria è di qua, mi perdo sempre, c'è detto attivamente Attivamente, eh, attivamente gli ultimi 40 anni, vabbè Ecco qua Vediamo se troviamo una mappa, e da dove cominciamo adesso? Qui non c'è un cazzo, qui non c'è un cazzo, qui non c'è un cazzo, qui non c'è un cazzo Qui c'è un vecchio Interessante proprio una cosa, insomma, sì Quindi non c'è un cazzo di niente qua, allora andiamo di sopra Insomma, quanti posti potranno salvare che qui c'è? Niente, potranno mai esserci dove guardare Cioè, in effetti ce ne sono tanti Però, facciamo presto, dai Qui non c'è un cazzo Signorina che c'era qui non c'è più Qui non c'è niente Ecco qua Perfetto, sapevo di essere la direzione giusta Non sapevo più o meno dove andare Cioè, sapevo più o meno dove andare, ma non quale forse, però dai Ce l'avevo fatta Andiamo dal villaggio Queste veloci Così prendiamo anche altri, perché questa l'ho potuto fare subito Ne ho approfittato Sì Vediamo pure Oh, ciao boy Ci sono due qua, forse una là Ci sono un po', dai Eccoci qua Ho sbagliato Facciamo una figlia di merda Da che cazzo dovevo andare? Ho le traveggole Ho le traveggole Probabilmente sì Allora, missioni Adesso una nuova Il Fabio vuole che trovi una mappa del terror E dove potresti mai cercare La mappa è molto rovinata Forse puoi riparlarla All'emporio di Amenia A Fatia Devo andare lì all'emporio Oh, che palle Vabbè, la faremo Ci capiteremo sicuramente Andiamo a vedere una missione qua Tutto bene Tutto bene Mi son ha venuto Ha venuto Un settembre E no matter What I do It just That's not good Any idea No He went out To play with the other children Like he usually does Tutto bene Something must have happened To him out there I'll see what I can figure out You will? Of course Meddlesome As always I see Shall we be Sounds like a plan to me I suppose all children Are precious To their own parents Yeah But if the cause Of the illness Is a mystery I heard There's a scary curse On all the forests In the world And the bigger the forest The scarier the curse Well you're smart Come up with something Perhaps we should speak With the local children Why would kids know When the adults don't? Some kids like to play In the northern forest We're not supposed to know But everybody does Man I wish I could go there Foresta Settenzionale Interessante I heard there's a scary curse On all the forests In the world And the big E quindi Gli altri bambini C'era la fontana Gli altri bambini Dove Giocavano una volta Adesso non li vedo C'è solo la vecchia La foresta Settenzionale Non è che mi dici Pianura Settenzionale Sicuramente Della parte Settenzionale Ovviamente Andiamo un po' È la foresta Di miti Non è tanto grande Come foresta Intanto Dobbiamo andare Al cerpame Potrei dare Un'occhiata Siamo a due passi Abbiamo il nostro Il nostro amico Qui Che ci dà una mano Allora Vado verso il ponte E poi giro a destra Ok Sperando che mi compaia Col boss E come non detto Ti passo subito Ecco qua Ok Andiamo pure A destra Vi ho detto Andiamo a vedere Se è vero Così Ci togliamo anche Il Callo dal dito Siavele È molto bello Siavele Mi fa calacare Ma Cos'è Questo Questo rumoro No C'è un altro Dal coso A parte dei miti Assomiglia molto Al entrare Di un'altra cosa Però sì Vediamo L'unica foresta Che viene Da settentrionale È questa Già 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 Concordo Perché è stato Molto Stressante Dice che c'è Una malattia Oddio ancora Quindi quindi dobbiamo andare di nuovo a casa nostra oh santa miserica ah non mi hai detto un cazzo per questa giornata ah vedete che c'è qualcosa magari ci dice qualcosa in più meno male che non dobbiamo leggere noi alla miseria ok ok e quindi sappiamo qualcosa in più adesso questione di vita di morte dov'era finita? no non è che mi è stato di molto aiuto adesso devo essere sincero proviamo ad andare un po' più in fondo dagli altri però non mi dice niente ah porche queste storie cosa portano? fatemi capire cioè portano solo la noia eterna perché oh cosa sembra un altro ma non solo no ti posso parlare vi as se grimoire vice è capabile di spartare hang on non penso che è già è il fatto è il fatto è il fatto è il fatto che significa ci ci raccogliano ci diciamo ci raccogliano che ci raccogliano oh no di nuovo un'altra cosa testuale mi viene male va bene lo leggo piano piano e ci vediamo fra poco grazie a tutti 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 oh grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti